Operazione Capolinea. I finanziari del nucleo di polizia tributaria di Bari, su disposizione della procura della locale Repubblica, ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro patrimoniale di cospicuo valore emesso dal GIP presso il Tribunale, dottoressa Chiara Mastro-Rigli è notificato tre misure interdittive. Ebbene, sequestro preventivo per un valore complessivo di 2.597.655,64 euro, è messo in solido nei confronti di Pietro Di Paola, quale amministratore, tra le altre, della società Oma Service SRL di Modugno, e nei confronti della società stessa. Un sequestro operato su numerosi rapporti finanziari nella loro disponibilità, sospeso dall'esercizio di pubbliche funzioni Nunzio Lozito, direttore generale protempore dell'AMTAM S.P.A. di Bari, evito rogazione stea, già capo area tecnica della stessa società partecipata dal comune del capologo pogliese, ed ancora sospeso dall'esercizio di impresa Pietro Di Paola. I provvedimenti scaturiti a seguito delle indagini durate oltre un anno, dirette dalla Procura della Repubblica di Bari, in merito all'affidamento alla società Oma Service del servizio di ricambi tecnici per i mezzi di linea e manutenzione. I reati, oggetto di indagine, peculato, truffa, corruzione e falso. Attività investigativa che avrebbe permesso di accertare condotte finalizzate a controllare le operazioni commerciali, tra queste al centro di valutazione e il comportamento di Vito Rogazione Stea, quale capo area tecnica, che avrebbe prodotto un indebito esporso di denaro per circa 2,6 milioni di euro. La Guardia di Finanza avrebbe accertato quindi numerose irregolarità nei pagamenti, in molti casi fatti dalla società Oma sui mezzi dell'Amtab, con fatture gonfiate. A seguire, ravvisate o messe verifiche nella somministrazione dei pezzi di ricambio e dei servizi manutentivi che avrebbero portato ad una frode alla società pubblica da parte dell'Oma Service. Dall'indagine coordinata dal PM Francesco Bretone, indagati anche l'ex presidente Amtab Tobia Renato Binetti ed il funzionario Onofrio Soldano per i reati contestati a vario titolo di corruzione, peculato e falso. Il GIP del Tribunale di Bari, Anna Chiara Mastrorilli, ha ritenuto però le condotte contestate dalla pubblica accusa qualificabili come abusi d'ufficio, rigettando le richieste di arresto.